Il portiere è una pecca che dobbiamo risolvere, non ce l'abbiamo Vedremo di trovare un portiere più presto, speriamo per le prossime partite vada meglio Sì anche perché il portiere è il 50% della squadra, non è il calcio a 5 Anche 70 Ecco il premio, farlo vedere bene, complimenti Grazie